Contro manifestazione degli immigrati, questa mattina concentramento a Piazza Garibaldi, si stanno cominciando ad accalcare, sono circa un migliaio, vengono un pochino da tutte le parti della città, prevalentemente dai quartieri dove ieri si è svolta una manifestazione dei residenti che lamentavano un disagio oramai insostenibile. Questa mattina gli extracomunitari, molti di loro sono sans papiers, come direbbero in Francia, perché lo slogan principale è permesso di soggiorno. Il corteo è abbastanza lungo, si sta snodando per il Corso Umberto, arriverà sicuramente sotto alla Prefettura di Napoli dove è prevista la fine e quindi poi lo scioglimento del corteo stesso. Piazza Borsa ormai si sta cominciando a riempire, noi stiamo seguendo gli eventi di questa manifestazione, continueremo a tenervi informati su eventuali sviluppi. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano.